Madonna santa Giulia e dai io non ti posso vedere così sono tanti anni che ci conosciamo ma non ti ho vista mai in questa condizione mi ha chiamato Piero vieni urgentemente ho bisogno di te stommando 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 sei venuto qua e a me ti vedo ancora a piangere mi vuoi dire che cosa è successo dai Giulia di che è successo di ho litigato di nuovo con mio marito di nuovo ma è una canzone e dai scusa dove è stato il tuo marito? è in giardino in giardino io non lo vedo devi scavare Giulia sto parlando seriamente e va bene Giulia ora venghi ciao